Buongiorno a tutti, sono del Circolo Pontino della Manovella di Latina. Abbiamo partecipato recentemente a una splendida manifestazione organizzata dal Panormus di Palermo, Circolo Asi, il Giro della Sicilia, un giro fantastico che consigliamo a tutti i soci Asi e i nostri soci del Circolo Pontino della Manovella di Latina, quanto è un'esperienza fantastica. Si parte da Palermo per fare tutto il perimetro dell'isola. In uno scenario fantastico di profumi, di sapori particolari, raggiungendo paesi incontaminati della nostra bellissima Sicilia, passando per Agrigento, la Valle dei Templi, per arrivare fino a Catania, girare verso Trapani. Il giro è di circa 1200 chilometri, svolto su cinque giornate, splendidamente diretto dal presidente del Panormus, e è un giro che consigliamo perché unisce il divertimento e la passione delle auto storiche con la nostra bella Sicilia. Diciamo che di auto storiche ricorderete tanto, ma ricorderete soprattutto dell'accoglienza, dei profumi, della simpatia di questa isola che è unica e incontaminata. Il giro si svolge essenzialmente con tappe da circa 150-200 chilometri ed è un giro non pericoloso, ovviamente fatto con un percorso tutto al di fuori delle autostrade, per cui vediamo panorami che il turismo normale non riesce a incontrare. Da quella manifestazione, ovviamente, oltre al sapore di Palermo, dei luoghi, ricorderete soprattutto l'accoglienza della Sicilia, per cui non è più soltanto un incontro di auto storica, ma un incontro con la cultura e con il territorio. Oggi siamo qui a Frasso, con il Circolo della Mallea Contina, per cercare di fare una manifestazione in ricordo del nostro amico Gianni Lissandro, nostro commissario tecnico, morto due anni fa, di cui ovviamente il Circolo non può che avere una riconoscenza, una credibilità infinita, e questo è il modo per ricordarlo. Oggi abbiamo circa 50 macchine di tutti i livelli, ma il raggruppamento della manovella oggi vuole festeggiare l'arrivo dell'estate e essere una prova generale per la prossima gara che andremo a fare, calendario nazionale ASI, che è la gara della 10 miglia, Guarcino-Campo-Catino. Non è a gara, è una prova di abilità, come sapete la regolarità non è una gara automobilistica, ma è una prova di abilità sotto i 40 all'ora, con una logica di non pericolosità e per cui rientrano in quelle manifestazioni che vengono svolte sistematicamente da tutti i circoli ASI. Vi auguro un buon proseguimento e vi lascio alla manifestazione che fra un po' partirà. Grazie.